Ragazzoni buonasera, buongiorno in base a quando guardate il video come sempre bentornati in questo nuovo video Oggi ragazzi andiamo a dare un'occhiata alla Liga Anne e alla Liga Santander dopo aver visto la Premier Che nel video precedente abbiamo analizzato un po' dai 50-100k fino alla Miglior Premier Oggi lo andiamo a fare con la Liga Anne e la Liga Santander Anche se purtroppo, questo lo sapevo già, piccola premessa Purtroppo ragazzi non ci sono tanti giocatori quanti in Premier In Premier lo sapete, è il campionato consigliato perché ha più scelte eccetera 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 Quindi viene più difficile fare un upgrade da un 50-100k alla squadra ideale Soprattutto perché bisogna andare a spendere tantissimo poi ad avere la squadra ideale Quindi diamo un'occhiata ma da questo video ragazzi prendete soprattutto i giocatori da fare i triangoli I famosi triangoli, Valverde, Mendy ad esempio e Varane Però fare una Full Liga Anne, fare una Full Liga Santander ragazzi non è mai tanto consigliato Tante che pochissimi la fanno Però parliamo anche un po' intanto dei giocatori che ci sono Poi pian pianino quando usciranno carte speciali ovviamente sarà più facile Spostiamoci su Food Bean boys Perché ho fatto due squadrette come vedete appunto Le ho messe insieme perché c'è poco da dire purtroppo Liga Santander e Ligan Questa è la Liga Santander start ragazzi diciamo che consiglio per iniziare Perché comunque è una squadra completa C'è Giaglio Rente che è uno dei top player della Liga Santander C'è Fernando con ottimo mediano Un 4 davanti con Portu che dicono che sia un pagatone e non l'ho provato Felix mi è capitato in qualche draft non è malaccio per iniziare Carrasco molto molto solido Morales anche lui bello veloce Poi in difesa Lodi che mi è piaciuto tanto 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 nei draft Nacio Fernandez e Hermoso che sono due di cicche per iniziare come vedete buona velocità E anche buone stazze difensive Jesus Navas a destra che è calato un po' di prezzo E Asenko in porta Come upgrade o raga questa rosa Se voglio rimanere sulla Liga Santander Poi come vi ho detto raga io vi faccio i video Tipo adesso sto parlando un po' di squad builder misti Ibridi e questa miniserie sul Premier League Pro Eccetera eccetera Ovviamente raga poi voi dovete prendere triangoli Ad esempio mettiamo il 4333 Che è il famoso modulo da triangolo Come vedete avete un triangolo di intesa qua Avete un triangolo di intesa qua da fare Il primo upgrade da fare in questa rosa Intanto chi è questa vacca che mi parte nel video Ok Il primo upgrade da fare raga secondo me in questa rosa È andare a inserire Diego Carlos e Militao Perché i difensori quest'anno sono importanti Quindi Nacio e Hermoso vanno bene Però il primo upgrade raga è Diego Carlos Che a me personalmente quando mi è capitato in draft Mi è piaciuto molto E dall'altra parte il buon Militao Idem come sopra anche lui mi è piaciuto molto Sempre baggatissimo Come giocatore Poi concentriamoci sull'attacco raga E qua è il problema Cioè se io voglio andare a levare Felix In una Liga Santander Che cosa faccio? È un problema raga Perché come vedete Come vi spiego sempre Voi dovete far così Prendete Liga Liga PPVA Quindi Liga Santander Position ATT Che sarebbe CF o Striker E come vedete raga Suarez purtroppo Lentezza disarmante Benzema Non è sicuramente un giocatore ideale Morata è andato alla Juve Poi vabbè Alicio Campello Moreno e Aspas Quindi vedete che da passare da Felix Upgradare Felix In Liga Santander Vuol dire andare a prendere Griezmann E spendere già 110.000 La Griezmann che a me è sembrato veramente buono Nonostante la velocità che non dimostra Però bisogna già spendere Una cifra notevole Ok E questo è un po' il problema di queste leghe Poi A sinistra Sicuramente raga Col tempo Ma questo dopo Però ve lo metto già Ci vorrà Mendy Perché è un giocatore pazzesco Che vi fa fino ai toti tranquillamente Però prima di Mendy Andate a pagredare al centro campo Quindi Llorente ok Levate Fernando Che non ha una velocità eccellente E qua c'è un dubbio Valverde o De Jong Il dubbio Valverde o De Jong Io non me lo so risolvere raga Perché Valverde L'ho provato un draft E mi è parso buono De Jong l'ho provato un draft E mi è parso buono Allora Valverde Diciamo che è un po' più completo Perché comunque Mi pare Adesso se non ricordo male Ecco qua Anche più tiro De Jong è un giocatore E' alto alto come Warcrits De Jong è un giocatore più defensivo Con alto in difesa Il tiro alla carta base Quello che è Onestamente ho sentito parlare Bene di entrambi raga Io mi metto De Jong qua Perché De Jong E comunque sempre De Jong E poi andrei a levare Di Orente Che è valido Però mi hanno detto Che un po' Non rispetta proprio Quelle stats che ha raga Io ero molto Ipato per sto Di Orente Non le rispetta tantissimo Mi hanno detto Valverde Molto meglio Chi li ha testati bene Quindi vi faccio Valverde E De Jong Che è una mediana Bella completa Come piace a me Uno bello difensivo Con alto in difesa Uno con alto alto Buono a difendere Ma anche con un minimo Di stats Offensive Gli esterni Qua un altro problema Raga Perché se voi andate a togliere Carrasco Guardate proprio il procedimento Vado su Alle sinistre Metto Liga PBBA Non è che c'è tantissimo Nel senso Allora Dembele è valido Però a me Per cosa ho provato Non ha fatto per niente Impazzire la carta base Il mago di Oz Lasciate perdere Azzardo è valido Però anche qua Si va a spendere un po' più Di crediti E azzardo secondo me Più C.O.C. Barra punta Più che esterno Anche se può fare anche l'esterno In alternativa Potete sbloccare Sto Ansufati Che io ho fatto Come Sabba Anche se l'ho provato ancora poco Che non mi è parso Proprio Incredibile a livello di tiro Però ci può stare Questo Ansufati Anche se costa un pochino Quindi ho consigliato Di aspettare Dei non scambiabili Per sbloccarlo Quelli delle Rivals Quella del Wickeling Eccetera Io direi che a sinistra Se vi serve un esterno Andate su Ansufati Lo sbloccate Lasciate perdere Dembele Oppure comprate Dembele Se non volete Uno scambiabile In alternativa C'è anche questo Fati Però il poto è molto più Gagliardo Se volete un C.O.C. Un giocatore Da zona centrale Andate su Azzardi Io vi metto Azzardi A destra Andiamo anche qua a vedere Liga BBVA Nel lato destro Chi potrebbe essere Una buona scelta Come vedete Bale è andato via Il nulla totale Potete mettere Suso Un pellegrino Potete mettere Correa Un altro pellegrino O potete mettere Ocampos Che è preso Palesemente per strada Il classico dodicesimo Del calcetto È andato male Quindi Se vi devo fare Una Liga Santander Finita Vi devo mettere Messi Che a me quest'anno Non fa impazzire Però vi devo mettere Messi Ultimo da cambiare Anzi penultimo da cambiare C'è il buon Morales Bello baggato E anche qua Chi vai a mettere Chi vai a mettere Nel momento in cui tu hai messo Griezmann Nel momento in cui tu hai messo Azzardi Nel momento in cui hai messo Messi L'unico Se vi serve Un giocatore Che vado a fare l'esterno È Inaki Williams Bello rapido Baggato come sempre Lo mettete sulla fascia A correre come un puledro Formazione Qua a destra Poi io metterei Carvacale Vi sono dimenticato Leverei quel Jesus Navas Centralmente Una volta messo Diego Carlos E Minitau Potete andare ancora a lavorare Secondo me Levar Minitau E mettere eventualmente L'englet Che quest'anno è sempre valido All'inizio Anche se è un po' più lento Non durerà Ovviamente Fino ai toti O dopo Per la velocità Però può essere sicuramente valido Ramos Lascierei perdere Causa velocità Al momento Perché Che è fortissimo Negli interventi Ma se prendete Un filtrante Siete fottuti Quindi andrei Sull'englet Ovviamente Il top Rimane lui Raga Varane Che è praticamente A livelli di Van Dijk Quindi L'englet Prima Poi Tra Diego Carlos E l'englet Io leverei l'englet Quest'anno E metterei Per l'appunto Varane Per chiudere Diciamo La Liga Santander Perfetta Con ovviamente Courtois In porta Al posto di quel Pellegrino Che abbiamo messo prima Questa Probabilmente Al momento Secondo me La miglior Liga Santander Che potete avere Come vi ho detto All'inizio del video Che cosa c'è da prendere In questa Liga Santander Secondo me Questi tre davanti No Qua è interessante Prendere questo triangolo Che è un triangolo Che hanno fatto Anche molti pro O comunque Giocatori di Elite Varane Di Valverde E inserire Ogni un'ibrida In alternativa Potete fare Se avete un po' Meno di crediti Raga De Jong E buttate Un bel Lenglet Che come vi ho detto Sicuramente Comunque valido In alternativa Potete fare Un triangolo Diego Carlos Renan Lodi E poi piazzarci Un Fernando Per esempio Però Questo quanto Sulla Liga al momento Raga Poca roba Se pensate In confronto Alla Premier Dove c'erano 10 terzini a destra Centrali pochi In confronto Ma 4 terzini a sinistra Che è arrivato anche Teglias Se ne sono 7 8 mediani 4 5 esterne a sinistra 3 a destra 5 6 punte Purtroppo Pochi spunti Raga La Liga Santander Però Prendere questi triangoli Può essere interessante Raga Assolutamente Altra Passiamo oltre Perché la Liga Santander È finita qua Purtroppo Alla Ligan La Ligan Questa è la Ligan Raga La più cheap Che ho potuto fare 24k Praticamente Proprio per i poveri Un abbraccio I poveri Ovviamente In maniera ironica Lo dico Che È una buona squadra Ma anche qua Raga Startare con sta squadra Avete Icone Avete Bamba esterni Dembrede l'orta Al centro Che non sono sicuramente Di fulmini di guerra Auar Che invece Mi è piaciuto tantissimo L'ho provato per sbaglio Per caso Nella mia squadra Mi è piaciuto molto Renato Sanchez Molto solido La difesa Ci può pure stare Però davanti Un disastro Come upgradeate Questa premier Anche qua raga Non c'è tantissima scelta Perché Allora Renato Sanchez Secondo me Qua facciamo la stessa cosa Di prima Va sostituito raga Con un bel Renato Sanchez Utilizzato anche Da molti pro Che è molto valido Eventualmente Da Gueye Ma secondo me Renato Sanchez Auar Se lo volete tenere È il classico Popba Della Ligan Che fa un po' tutto Io con Renato Però che comunque Alto alto Non ha incredibili Valori difensivi Per stare un po' più tranquillo Quest'anno Andrei a mettere Gueye Perdete in qualità Perdete in velocità Però comunque In fase difensiva Ne guadagnate parecchio Poi Kimbembe Di Allò Una buona coppia Per iniziare Come ho detto Kimbembe Molto solido In Ligana Onestamente Di Molto 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 Più Valido Di questi due Che vi ho messo Per iniziare il campionato Raga C'è questo Marchinius Che ha maggiori stazioni difensive C'è anche Denair Per iniziare Però anche qua Abbiamo finito Raga C'è Marchinius Kimbembe In porta Potete metterci Vediamo chi c'è Riportiere Non mi ricordo Se c'è Navas Un lapsus Incredibile In porta Potete metterci Eventualmente Navas Che Sia il PSG E il triangolo centrale L'avete in mezzo sistemato Sugli esterni Che io sappia Terzini Sinistri Se noi andiamo a selezionare Left back Ligan Non c'è nulla di potente Perché Bernat E poca roba E terrei Camara Tutta la vita Idem Se andiamo a togliere Il buon Natal Che vi ricordate Tutti gli anni scorsi Non è che abbiamo Tutta sta scelta Perché l'ala Un po' lentuccio Florenzio Un po' lentuccio Tra ore è così così Quindi tieni l'ala Vedete La limitazione Negli altri campionati Per quello che si costituisce Sempre la Premier Passiamo davanti Davanti Sì La squadra bella Volendo esce Nella Ligana Raga Ma se noi Non andiamo a prendere Neymar Che è un giocatore Fottutamente Da Shakey Non abbiamo Credo A memoria Grandissima scelta Perché come vedete C'è Payette C'è la Bamba C'è mio fratello Simone Per il resto Sporcheria Se noi andiamo a togliere Dembret Dobbiamo mettere Beller Che consiglio Quest'anno Anche se Secondo me Non è devastante Tanto c'è Una mosca Di merda Qua Non è devastante Come gli anni scorsi Beller Raga Perché Io personalmente Voglio un 5 stelle skill Arriverò poi il video Sulle skill Per chi lo chiede Fra due settimane E perché Voglio giocatori Comunque Che prendano Una bella velocità Beller Non è che sia lento Però Altri sono un'altra cosa Già solo una Bume Young O un Rashford Per dirvi Però Beller ci vuole Di una Di una liganne E a destra Di nuovo Raga Abbiamo le mani Completamente legate Come vedete Quindi è un po' Un disastro Capite Selezionare Altre lighe Questo è un video Più questa mosca Deve morire Mannaggia I due morti È un video Raga Più per dirvi Che dovete partire Con una Premier League Secondo me E eventualmente Prendere Un triangolo Di questi E poi Andare su una Premier Per forza Per forza Di cosa Perché ripeto Qua ci metti Mbappé Qua ci metti Neymar E allora La Liga Nesce Ma se no Ragazzi Siete troppo Limitati Voi come vi ho fatto Vedere nei video Precedenti Intanto la mosca Cammina ma Ha capito Che la sua vita Sta per terminare Ovviamente Mi dissocio Da possibili Animalisti Se voi volete Fare come vi Ho detto Una bella cosa Potete fare così Volete fare una Ibrida Che probabilmente È la cosa Migliore Fate Courtois Qua prendete Varane Qua prendete Il buon Mendy O anche Jordi Alba Il giocatore Quest'anno Incredibilmente valido A mio parere Nonostante Se lo inculino in pochi E qua Prendete Valverde Da qua in poi Ragazzi Ci sta a costruire Qualunque altra cosa Fate un triangolo Qua della Bundesliga Come vi ho fatto vedere Nei vecchi video Ad esempio Con Klosterman Che è un giocatore Incredibilmente pagato A destra Prendete Mucchiele E in mezzo al campo Potete prendere Sia un Limer Ma potete anche andare Visto che avete messo Già un palverde Che comunque È un giocatore Più tra virgolette Offensivo Un bello Zaccaria Qua mettete Mbabu Che così vi da Link a Zaccaria Siete belli sereni E avete due Bei triangoli Diversi Questi ad esempio Raga Qua bisogna cambiare Il portiere Visto che avrà Una faccia tripla Bisogna mettere Un portiere Della Bundesliga Qua avete due Triangoli Per partire Validi E poi da qua Costruite Premier Raga Felipe Anderson Richardson Jesus Zaa Antonio Per chi proprio A pochi crediti Poi volendo Andate su Momo Salaga Devastante Manet Rashford Son Aboumeyang Werner Cioè tutto il mondo Raga Tutto il mondo In Premier Purtroppo è così Che vogliate o no Perché se voi andate In Liga Santander O andate in Liga Non andate in Bundesliga Davanti Soprattutto un casino Raga Non avete giocatori Realmente validi da mettere Quindi io vi consiglio Sempre la Premier Per il resto Chi vuole farsi Sempre una Liga Santander Come vi ho fatto vedere Full Liga Santander Ci può stare Però sappiate Che incorrete Comunque In un minimo Di problemi Poi Andandarla a pagheritare Almeno al momento Che non ci sono ancora Abbastanza carte If Carte di eventi Eccetera 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 Quindi questo è quanto Su questi due campionati Raga Nei prossimi giorni Arriveranno i video Sulle tattiche Mercoledì Probabilmente a mezzogiorno Credo sicuramente Mercoledì a mezzogiorno Poi arriveranno Nel KVL Vi porterò altri squad builder Prima della VL Almeno ancora uno Io vi saluto Ragazzi Vediamo in live Come sempre Vi mando un abbraccio Spero che questo video Vi sia piaciuto Ciao raga